La paura e il sollievo. Solo lievi ferite per lo sportivo quarantenne è caduto ieri nel tardo pomeriggio con il suo parabendio a motore a Capolago. L'atterraggio di fortuna è avvenuto su un albero, cosa che ha tutito il colpo, evitando il peggio. Molti varesini dai balconi, dalla zona intorno al lago di Varese, hanno assistito alla caduta veloce del mezzo, come se questo fosse trascinato verso il basso da una spirale di vento, dando l'allarme e sperando in un miracolo. Un miracolo che poi è avvenuto perché il pilota in un primo momento non si trovava nemmeno. I soccorritori hanno notato solo la vela strappata su un albero e alcune parti del motore a terra. In realtà si è poi saputo che l'uomo in autonomia si era recato all'ospedale di Tradate per farsi curare, ferito ma non in modo grave.